Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda, nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale o alla legge, ricorda, tutto è lecito. Allora, Giovanni, 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 Giovanni. No, il film di Assassin's Creed. Ci vediamo insieme. No, il film di Assassin's Creed. Da grande fan del gioco di Assassin's Creed non potevo non vedere il film. Il problema è che... Il film di Assassin's Creed non potevo non potevo non potevo non potevo non potevo non potevo non potevo. Ah, sì, in cucina sono sparite tutte le forchette. Le ho prese io. Oh, ma hai forbici? La spazzola adesiva? Mico, ma hai visto occhiali mia? Perché cazzo te nascondi tutto nella manica? Perché sono Aquilar. No, sei un coglione! 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 Dai, ho fame! me la ridai questa è la mela dell'Eden non posso darvela questa è un'arancia coglione quando gli altri seguono ciecamente la verità ricorda nulla è reale quando gli altri si piegano alla morale o alla legge ricorda tutto è lecito tanto ucchiali guarda la cazzo è andata buccadroia e azione vai zamm bollione questa è la mela dell'Eden questa è la mela dell'Eden guarda che fa di sottofondo ci sta guarda che fai guarda che fai guarda che fai Ho, 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 ho!